Sono Valentina Russo, mi sono diplomata all'Ozionale Butinone nel 2005 nell'indirizzo turistico e dal 2006 lavoro presso la Bonanza Viaggi, un'agenzia storica qui di Treviglio e sono la responsabile. Essere responsabile di un'agenzia viaggi significa occuparsi un po' di tutti gli aspetti lavorativi che si trattano all'interno di un'agenzia, quindi dalla prenotazione di una semplice vacanza all'organizzazione di fiere internazionali, quindi ci occupiamo anche di tutto quello che è il business travel nella provincia di Bergamo, di grandi aziende e quindi questo mi permette anche di interagire con aziende all'estero e di viaggiare costantemente verso paesi dell'Unione Europea o anche extra-way. L'esperienza all'Ozionale è stata un'esperienza molto positiva per me, sia dal punto di vista didattico che dal punto di vista personale. Mi ha dato molto, mi ha dato l'opportunità di imparare a stare nel mondo del lavoro, infatti fin dalla terza superiore, durante la stagione estiva, io partivo a fine maggio per degli stage di 3-4 mesi e lavoravo all'interno dei villaggi turistici in staff di animazione. Questo l'ho fatto grazie alla scuola che mi ha dato l'opportunità e devo dire che ho imparato fin da subito a stare nel mondo del lavoro. Grazie a tutti! Grazie a tutti!